Eccolo lì Ecco, Giuseppe che viene accompagnato dalla chitarra, da Mimmo Decarro, il nostro regista audio, un applauso Al basso da Mimmo Bagnardi, il nostro presentatore e cantante e regista della trasmissione Improvvisando E alla batteria dall'ex pallavolista Viviano Bagnardi che cercherà di accompagnare il nostro maestro Giuseppe Giuseppe, solo la prima canzone, come si intitola e perché? Allora, la prima canzone che eseguiremo stasera si intitola Smile, Sorridi È una canzone che non ho sentito da diversi anni, temo È una canzone del 1952 ed è stata scritta da un grande attore, regista, musicista che si chiama Charlie Chaplin Sì, volevo dire questo, che il personaggio di questo film, del film Luci della ribalta Si chiama Calvero, dice una frase bellissima Dice, la vita è meravigliosa se non se ne ha paura Tutto quel che ci vuole coraggio, immaginazione e un po' di soldi Facciamo un applauso a Calvero Ora, colgo l'occasione per ringraziare Mimmo e Viviano Bagnardi per questo invito, anche Giorgio E colgo l'occasione per dire che questi signori, che sono due grandi musicisti, Mimmo De Carlo e Mimmo Bagnardi Lui no, Viviano no Questi due grandi musicisti sono sprecati qua Dovrebbero andare su palcoscenici più grandi Ricordo che stasera c'è anche Sanremo e noi non siamo a Sanremo, siamo meglio di Sanremo La vita è bella, la vita è bella Infatti, questa canzone dice proprio questo Dice che è bello vivere e anche se qualche volta ci capita di piangere Bisogna ricordarsi che la vita è bella, sempre Cominciamo Va bene questo o quello? Posso cantare? Ah sì, con tre mani non so suonare Ah sì, con tre mani non so suonare Dice che è bella 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 Dice che è bella